Oggi Pina glielo direbbe che lo ama o continuerebbe a dire che lo stima? Non solo oggi, da sempre. Gli diceva che lo stimava ma lo amava? Eh lo so, era un modo per dirgli che lo amava. Un po' difficile in questo momento. No, non so. Era la sua compagna sul set, era la sua... La moglie per tutti, lei è la moglie, tipo di... Gli sono grata, gli sono grata di aver potuto fare... Ecco adesso che sento la sua voce poi... Pantossi, non è? Gli sono grata, grazie. Oggi Pina glielo direbbe che lo ama o continuerebbe a dire che lo stima? Non solo oggi, da sempre. Gli diceva che lo stimava ma lo amava? Eh lo so, era un modo per dirgli che lo amava.